Sigilli alla discarica di Carpineto nel comune di Lauria per fuoriuscita di percolato. Nella sera di ieri martedì 24 luglio la procura della Repubblica di Lago Negro ha posto sotto sequestro l'impianto di smaltimento dei rifiuti. Questa l'informativa fissa sul cancello principale dell'impianto Laurioto dal comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente nucleo operativo ecologico di potenza. La leggiamo insieme. L'area di vita sistema integrato di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati sottoposti a sequestro preventivo e probatorio su disposizione del tribunale di Lago Negro per inosservanza della norma in materia ambientale. L'accesso è consentito esclusivamente alle persone autorizzate. Poi vedete la lata Lauria provincia di Potenza 24 luglio 2012. L'ufficiale di polizia giudiziaria Francesco Di Palmo. Il sequestro informano dalla procura a Lago Negrese è stato disposto dal sostituto procuratore a seguito di una voluminosa consulenza tecnica richiesta dagli inquirenti. Nel documento in mano al procuratore capo Vittorio Russo le prove della presenza nell'area di Carpinetto di sostanze inquinanti. Il provvedimento è stato eseguito come abbiamo detto dai carabinieri del Noe di Potenza ma sono partiti anche alcuni avvisi di garanzia destinatari i referenti della ditta che gestisce l'impianto di Lauria e anche a quanto si apprende l'ufficio tecnico del comune di Lauria. Si complica così dunque la vicenda dell'impianto Lauriotta un impianto nato sotto le migliori aspettative come impianto all'avanguardia capace di assorbire la richiesta sia del comune di Lauria dove è ospitato sia quella dei comuni limitrofi. Adesso per l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Mitidieri una gatta da pelare.